La partita di domenica con il Sandonato Tavarnella in teoria è la migliore possibile per una squadra come il Montevarchi, vogliosa di riscattare due risultati negativi. Un confronto nel quale, trattandosi in un avversario forte e con gli stessi punti in classifica, le motivazioni, come si suol dire, vengono da sole. E poi ci sono i due ex, Roberto Malotti e Niccolò Rossetti, che insaporiscono ancor più un appuntamento di alto profilo, poiché la sfida tra Valdarnesi e team della Val di Pesa, se fossimo nelle ultime giornate di campionato, sarebbe etichettata di sicuro come uno spareggio playoff. A quota 38, infatti, Aquilotti e Giallo-Blu si trovano solo un gradino sotto la quinta posizione. Decisi a riprendere il cammino interrotto in Versilia, Mannella e compagni affronteranno un antagonista quotato e in rimonta con una sola assenza, peraltro di assoluto rilievo. Vieri regoli il cannoniere che ha fatto le fortune recenti del Sandonato Indie in Coppa Italia. A proposito del bomber, la convalescenza prosegue secondo i piani e pur con tutte le cautele che si devono a un infortunio muscolare, è plausibile un ritorno di Bobo sul rettangolo di gara tra la metà e la fine di febbraio. Per il resto l'Aquila potrà affrontare la quinta di ritorno al meglio dell'organico. Sembra ormai imminente il completo recupero del mediano classe 2001 Amatucci, che si fermò subito dopo l'impresa esterna del Rosso Lucco, la capolista Givi Borgo. Il ragazzo, autentica rivelazione del torneo, ha ripreso gli allenamenti da mercoledì passato e qualora risponda presente alla convocazione, consentirà a Venturi di ruotare le quote e ripresentare uno schienamento simile proprio a quello che trionfò a Bagni di Lucca. Nel caso invece che Amatucci non rientri dall'inizio, si farebbe strada l'ipotesi suggestiva di lanciare nella mischia qualche giovanissimo da tempo nell'orbita della formazione maggiore, in rampa di lancio i centrocampisti Mosti, Falconi e Gistri, prodotti del vivaio Montevarchino. Una decisione definitiva sarà presa solo dopo la rifinitura di domani.